buonasera fanciulle eccomi qui sul mio canale scusate il ritardo di questi tutorial ma purtroppo dei seri problemi da un mese a questa parte con la dsl non ho la connessione di case quindi col cellulare diventa un po tutto problematico allora con l'ultimo video eravamo rimaste ad una video dei materiali che ho scelto con la collaborazione per la bibi craft adesso praticamente stasera vi mostro il primo tutorial con i materiali appunto scelti da loro allora io ho deciso per questo primo tutorial di andare ad utilizzare i fili in wire che avevo scelto come materiali da testare e quindi questa sera andremo a fare un tutorial di una creazione molto semplice con il wire e ci serviranno appunto un filo wire argento se volete farlo come me o sennò potete scegliere voi la colorazione color rame color oro e indifferente da 0 3 mm e il filo wire da 0 8 mm allora di 0 8 allora intanto vi faccio vedere qual è il progettino che sono andata a realizzare è molto molto semplice sono partita in pratica da questa base che avevo acquistato non mi ricordo più neanche dove sinceramente gli ho applicato questo piccolo strass questa goccia strassi in resina incollata e la lavorazione in pratica io sono andata a farla partendo da questi anellini infatti questa sera lavoreremo su questo blu ma andremo praticamente a riproporre la stessa cosa che io ho fatto su questo qua rosa perché comunque la base è la stessa allora per fare questo orecchino ci servirà tre pezzettini di da 5 centimetri di wire diametro 0 8 perché noi in pratica dovremmo andare a creare tre gancetti fatti in questo modo io adesso due li ho già fatti uno lo farò qui con voi così vi faccio vedere come si fa è un pezzettino di circa 6 centimetri più o meno comunque leggermente più lungo degli altri perché io mi sono fatta anche la la monachella per l'orecchino e quindi vi farò vedere anche come ho fatto questa monachella oltre a questo ci servirà un po di wire 03 vedete voi una penso che comunque un 30 40 centimetri siano più che sufficienti dei cipollottini due per uno e due cipollotti di quelli tre per quattro allora io in questo caso non sono cipollotti perché ho confuso i sacchetti e sono un fenomeno ho preso due mezzi cristalli invece che due cipollotti ma rimediamo subito tanto avevo tirato fuori ogni sorta di materiale blu che avevo in casa e boh allora poi ci serviranno delle tronchesine per wire delle pinze a punta tonda delle pinze a becco piatto normali per andare poi a nascondere bene i nostri filini e io per fare questi ho praticamente utilizzato questa pinza che veramente benedico chi le ha inventate perché sono fenomenali però per chi non avesse questa pinza non è un problema potete tranquillamente fare questo cerchio attorno ad un pennarello ad una penna non c'è nessunissimo problema allora detto questo io comincerei con il tutorial e cercherò anche di essere il più breve possibile allora intanto andiamo a creare il terzo di questi gancini che ci serviranno per completare il nostro orecchino nell'info box poi vi metterò comunque i link dei due fili che io sto utilizzando e del sito della bb craft dove io ho preso questi materiali benissimo allora partiamo con la nostra pinza a punte tonde cerchiamo di stare molto vicine alla punta della pinza in maniera che il nostro anellino venga abbastanza piccolino tanto ci servirà solo per andarci ad agganciare prendiamo giriamo facciamo praticamente un giro completo fino a quando andiamo a toccare di nuovo il nostro filo in pratica andiamo a fare un anellino chiuso in questa maniera poi io prendo la pinza lascio fuori un pezzettino così e avvolgo semplicemente il filo intorno al alla parte più larga della pinza poi lo sposto leggermente perché io voglio andare a chiudere a mo di ferro di cavallo quindi in questo modo e vi verrà il vostro semicerchio qui scusate sono un po raffreddata tanto per cambiare allora 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 aspettate un secondo che me lo vado a stringere ancora un po perché sennò viene la puntina troppo lunga poi ok in questo modo tagliamo leggermente se ci rimane un pezzettino in eccesso prendiamo di nostro di nuovo le nostre forbici connessi da forbici vabbè le pinze a punta tonda e rifacciamo praticamente l'anellino come l'abbiamo fatto dall'altra parte quindi andandolo a chiudere completamente contro il filo in questo modo è il nostro terzo gancino è fatto poi ovviamente noi ce lo possiamo andare leggermente ad allargare man mano che andiamo a montare l'orecchino allora la seconda fase consiste nel prendere il nostro gancino vediamo se riesco a zoomare un pochettino in maniera da riuscire a farvi vedere bene sperando che il mio telefono collabori con la messa a fuoco allora quello che dobbiamo fare adesso praticamente prendere l'anellino e aprirlo spostandolo verso il retro quindi in questo modo non allargandolo ma andandolo a spostare di lato e ci andiamo ad attaccare qui poi lo richiudiamo riportandolo nella sua posizione apriamo il secondo anellino sempre spostando verso il retro mannaggia questo telefono se mettesse a fuoco una buona volta e ci agganciamo nel secondo anellino del nostro ciondolino praticamente qui così e andiamo a chiudere anche questo riportando praticamente il gancino nella sua posizione quindi andiamo a schiacciarlo un pochettino già posso fare chissà perché le cose fuori dalla videocamera vengono sempre più facili che non con la videocamera perfetto così una volta fatto questo se voi vedete tende a rimanere leggermente all'indietro schiacciamolo un pochino in modo da portarlo che rimanga a pari anche perché sennò abbiamo difficoltà nel chiudere il nostro gancetto che fa i capricci mannaggia ok forse ce l'abbiamo fatta perfetto in questo modo in maniera che rimanga abbastanza dritto poi comunque lo andremo a raddrizzare ancora un pochino dopo mentre lo lavoriamo poi con il filo più sottile ora prendiamo il secondo gancino e facciamo esattamente la stessa cosa apriamo i due gancetti verso il retro in questo modo uno ce lo andiamo ad agganciare nel centrale però passando attraverso l'altra solina del gancio precedente quindi noi abbiamo l'orecchino in questo modo ci inseriamo e andiamo ad agganciarci quindi uno qui al centro cioè possiamo fare e uno nel gancino laterale in questo modo praticamente rimangono agganciati così restando incrociati lì al centro ora chiudiamo i nostri gancini sperando di non fare la faticaccia di prima allora uno e due ok e anche questo ce lo andiamo a inclinare leggermente in avanti in maniera che poi il nostro orecchino rimanga bello dritto con il terzo gancino facciamo la stessa identica cosa apriamo i gancetti portandoli all'indietro e ci andiamo ad agganciare nella parte qui sotto adesso aperto anche poco il gancetto così in pratica ci agganciamo uno per lato nelle asoline che abbiamo messo sopra e andiamo a chiudere i nostri gancettini 1 e 2 se ce la facciamo ok e diciamo che la base su cui lavorare praticamente è pronta eccoci qua io vado sempre fuori camera sono un fenomeno della natura ok adesso prendiamo il nostro wire da 03 e ci andiamo praticamente ad inserire nella solina qui con il nostro wire sottile ci lasciamo una codina da tenere ferma e facciamo un due tre giri in modo da fermare il nostro filo e poterci lavorare allora è meglio che sposto le pinze per se non faccio un disastro allora in questo modo 1 facciamo il nostro giretto 2 ricordatevi sempre di andare ad avvicinare il più possibile i fili così che il lavoro rimanga bello compatto e 3 in questo modo praticamente si verranno a formare questi tre giri adesso argento su argento non è il massimo comunque ok facciamo così stringiamo bene e poi in pratica ci andiamo a fissare all'interno della solina quindi ci spostiamo da questa parte con il nostro filo sottile e in pratica cerchiamo di portarci ad uscire da questa parte perché dobbiamo andare a lavorare sul gancio adesso ci spostiamo un pochettino così io adesso sono andata a prendere in mezzo anche la codina ok e andiamo a lavorare sul nostro anellino adesso allora facciamo sempre tre giri in modo da andarci a stabilizzare il filo da questa parte della lavorazione fate sempre attenzione perché tende ad attorcigliarsi e rimane poi brutto da vedere perché fa tipo delle gobbette quindi accompagnate sempre lentamente il il vostro filo allora facciamo tre giri così e ci siamo portati in pratica il filo da questa parte e andiamo adesso a mettere direttamente sul filo un cipollottino due per uno ce lo portiamo giù in questo modo lo portiamo qui vicino ai tre giri precedenti che abbiamo fatto e rifacciamo tre giri in modo che noi fermiamo il nostro cipollottino dove vogliamo che rimanga e non si sposterà più quindi col dito cerchiamo di tenercelo fermo nella posizione e facciamo tre giri con il filo mannaggia 1 2 e 3 in questo modo è così il nostro cipollottino rimane fermo lì adesso prendiamo un altro cipollottino e facciamo la stessa identica cosa quindi ci prendiamo il nostro cipollottino sul filo ce lo portiamo giù ce lo piazziamo dove vogliamo e lo fissiamo con i nostri tre giri con il wire da 3 mm da 0 3 mm scusate 3 mm sarebbe quasi un palo della luce su questo orecchino allora così allora io devo dire che quando guardavo i lavori su pinterest o comunque dei tutorial di altre creative con i lavori in wire ho sempre detto mamma mia cose impossibili da fare gira e rigira i fili si attorcigliano poi veramente se provate non è nulla di così spaventoso io sono molto alle prime armi e perché per carità ho fatto sì e no 45 creazioni con il wire ma devo comunque dire che è una tecnica che mi dà abbastanza soddisfazioni allora se mentre lavorate vedete che i vostri ganchini si storgono leggermente qui al centro non preoccupatevi perché dopo con le pinze si possono tranquillamente andare a sistemare ora portiamoci con il filo sottile rivolto da questa parte quindi verso il centro del nostro anellino ci prendiamo il cipollotto quello da 3x4 lo portiamo alla fine del filo e in pratica lo dobbiamo andare a mettere qui al centro dell'anellino scusatemi e ci andiamo però ad agganciare in questo bordo qua quindi non quello dell'anello su cui stiamo lavorando che sarebbe quello superiore ma in questo qua inferiore che sarebbe poi il lato dell'altro anellino quindi passiamo il filo qui sotto in questo modo qua possiamo fare oh santa mamma facciamo così faccio prima allora così tenete fermi gli anellini perché sennò rischiate di andare a stringere troppo e vi si deformano e dopo diventa poi un problema andarlo a sistemare lì e facciamo un giro per andarlo a fermare in pratica nella posizione che vogliamo noi quindi in questo modo qua così ripassiamo ripassiamo tra i due anelli in questo modo qui e ora ci portiamo praticamente a passare di nuovo all'interno del nostro cipollottino così sbucchiamo di nuovo dall'altra parte in questo modo e possiamo andare a finire la lavorazione sul lato esterno dell'orecchino così in pratica questo viene fermato qui in mezzo ora ora ci facciamo i nostri tre giri per fissare il tutto e ci spostiamo poi a lavorare sull'anello quello sotto allora facciamo così uno uno due 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 e tre e ci portiamo in pratica ad uscire qui in mezzo nel nella solina del nostro gancetto in questo modo qui perché ora in pratica la nostra lavorazione si sposterà su questo anello quindi anche qui facciamo i nostri tre giri per fermarci il filo qui e quindi uno due due e tre quindi vi troverete a lavorare su questo punto qua e anche qui mettiamo i nostri cipollottini allora qui più o meno ce ne staranno cinque sei dipende da quanto riusciamo a stringere bene il nostro filo ed è come comunque vogliamo che sia l'effetto della lavorazione in teoria se volete potete utilizzare anche dei cipollottini due per tre però a me sembravano carini questi qui piccolini un po più delicati rispetto agli altri anche qui ci portiamo il nostro cipollotto verso l'interno dell'archetto lo fermiamo con tre giri così siamo sicuri che da qui non scappa più e tre poi prendiamo un altro cipollottino facciamo la stessa cosa ce lo portiamo giù verso l'interno ce lo teniamo fermo con il nostro cipollotto ci fissiamo il nostro filo di fianco in questo modo qua spingiamo sempre in maniera che la lavorazione risulti abbastanza compatta e non ci siano spazi troppo grandi due e tre prendiamo un altro cipollottino l'ho anche lanciato praticamente al fondo della scrivania ce lo andiamo sempre a posizionare qui in pratica in questo archetto lo facciamo tutto con i cipollottini piccoli non andiamo a mettere il cipollottino da 3x4 centrale ma giusto così per fare l'archetto diverso dagli altri due che invece avranno il cipollottino da 3x4 al centro allora non ti attorcigliare così in pratica come vedete questa lavorazione cioè è veramente molto basilare non ho fatto nulla di eccezionale però io penso che anche delle idee semplici possano comunque tornare utili perché magari uno non sa come abbellire un candelier comunque un qualcosa che abbia degli anellini dove ci si può andare ad attaccare con qualcosa e può tornare un'idea carina e che comunque rimane d'effetto come vedete io ho preso un altro cipollottino e rifaccio praticamente sempre la stessa cosa non ho voluto tagliare il video perché comunque non è tipo tutorial di perline o cosa perciò uno può anche seguire un po' tra virgolette la manualità non che io ne abbia moltissima però può tornare utile guardare anche solo i movimenti delle mani per quando si stringono i fili per quando si passa da una parte all'altra per come stringere gli anellini quindi io penso che sia un tutorial veramente per principianti questo spero a differenza di altri tutorial che ho fatto di vedere messo in pratica da qualcuno quello che io spiego nel tutorial perché purtroppo mi sono resa conto che ho fatto un tutorial in pdf ho fatto un tutorial anzi due qui di perline ma purtroppo vabbè non ho visto replicato nessuno dei miei lavori ma questo non mi scoraggia nell'andare avanti nel mio intento di condividere con gli altri quel poco che so anche perché comunque io ho veramente poco tempo da dedicare alla mia passione per la creatività ho veramente poco tempo da poter dedicare al canale ma lo voglio fare comunque mi piace poter pensare che a qualcuno magari qualche mio consiglio possa servire mi piace pensare di poter fare compagnia anche solo a qualcuno che vuole magari iniziare con il mondo della creatività e va curiosando per i vari canali per capire cosa potrebbe piacergli e quindi niente spero prima o poi di vedere anche qualche mio lavoro replicato ora poi dovrò fare anche un secondo tutorial sempre per la collaborazione con la bbcraft ho già studiato il progettino sarà un altro progettino molto semplice quindi anche qui a livello principianti ma anche quello sarà comunque un progettino simpatico e semplice da fare allora io qui cerco di tenermi con tre cipollottini per lato quindi ne ho 1 2 3 4 5 6 7 ora andiamo a mettere l'ottavo così abbiamo quattro cipollottini per lato e il nostro lavoro è abbastanza simmetrico perché comunque è più carino l'effetto che rimane facendo una cosa simmetrica che non spargendoli così un po' a casaccio al massimo vi tirate un pochettino giù gli altri in modo da poter andare a inserire il quarto cipollottino perché dovrà rimanere comunque abbastanza vicino alla solina perché poi ci dovremo spostare sull'altro anellino che rimane da fare e in pratica abbiamo già anche quasi completato il lavoro allora carichiamo l'ultimo cipollottino da due per uno scusatemi se mentre vado avanti con il lavoro faccio anche espongo anche qualche mio pensiero ma siccome è un lavoro ripetitivo e comunque se state osservando le mani vedete che stiamo facendo praticamente la stessa cosa mi piace anche fare quattro chiacchiere io ho bisogno un attimo di chiamare mia figlia a farmi passare il caricabatterie molto urgentemente perché il mio telefono dal 60% mi sta dicendo mi sto per spegnere quindi non potendo staccare il video spero che mia figlia intervenga il prima possibile allora tira il cavo me lo passi di qua se si interrompe il video giuro che farò la seconda parte per finire di spiegarvi il tutto ma spero di arrivare in tempo aiuta dai qualche problema non si tira dai tiralo piano piano stacca questa e scusate un attimo ma piccolo intoppo io sono sicura che il mio telefono adesso si spegnerà allora stringetevi un po' l'anellino questo qui centrale perché andando andando praticamente a fare la lavorazione ovviamente si è spostato leggermente e intanto vi piazzate anche allora scusate intanto attacco un attimo il caricabatterie ce la possiamo fare ce l'abbiamo fatta se si spegne portate pazienza allora adesso come prima ci portiamo a lavorare su questo anellino qua in questo modo così ci andiamo anche a fissare bene questo facciamo i soliti tre giri due vedrete che il video è diventato leggermente più scuro ma ho dovuto staccare una delle due lampade per salvare la registrazione del video perché sennò si spegneva il telefono e benissimo sono molto felice di questo allora adesso prendiamo il nostro cipollottozzo da 3x4 perché ovviamente adesso cosa dobbiamo fare fare la lavorazione a specchio rispetto a questo lato quindi mettiamo prima il nostro cipollottone un po' più grande ci andiamo sempre ad inserire nell'archetto qui al centro in questo modo qua cercando di non far ok così ci facciamo un giro per fermare la lavorazione in questo modo così e poi ci riportiamo a passare nuovamente dal cipollotto allora portiamoci su il filo che ci viene magari un attimino più comodo andarci poi a inserire nel cipollotto allora qui così passiamo di nuovo attraverso il cipollotto qui fate attenzione che il filo non faccia capricci non vi lasci gobette o cosa quindi ve lo accompagnate piano piano ecco già a me ha fatto la gobette quindi non vuole più passare nel cipollotto piano 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 ok ce l'abbiamo fatta l'ho tirata un pochino ci facciamo sempre i nostri tre giri per andarlo a fermare due e tre così ci prendiamo il nostro cipollottino da due per uno in questo modo qua se sentite la porta che si apre si chiude e mia figlia che continua ad andare avanti e indietro perché altri momenti per andare avanti e indietro non ce n'è passiamo dall'interno ci teniamo il cipollottino fermo così riusciamo andarlo a piazzare lo fermiamo con i nostri soliti tre giri di modo che stia ben fermo dove vogliamo noi gli avviciniamo il filo così lui si piazza lì e non si muove più due e tre ok prendiamo l'altro cipollottino e rifacciamo la stessa cosa ce lo piazziamo qui dove serve a noi passiamo col filo all'interno per poi andarcelo a posizionare così ok ok 2 e 3 in questo modo ce lo andiamo a tirare leggermente su e ci andiamo praticamente a ricongiungere di nuovo con l'anellino della nostra base così ce lo andiamo a fermare lì e non si muove più allora facciamo i nostri soliti tre giri basta ok lasciamoci il filo sul retro del nostro lavoro così poi tiriamo bene e andiamo a tagliarlo quindi cerchiamo di tagliarlo abbastanza vicino al bordo in maniera che poi con le nostre pinzette piatte andiamo a schiacciare la puntina che non raspi non graffi non gratti tiriamo bene anche questo ce lo portiamo sul retro che la nostra codina dell'inizio andiamo a tagliare anche questa sempre tenendoci vicino al bordo anche qui schiacciamo la puntina in maniera che non non graffi e ora ci sistemiamo un attimino il tutto in maniera che rimanga comunque abbastanza simmetrico da entrambe le parti al massimo con la pinza potete andare un attimino a chiudere di nuovo i ganchini che magari si sono un po spostati comunque ve lo ve lo sistemate un pochettino allora l'orecchino in pratica è finito ora se volete fare voi la monachella io non ho fatto nient'altro che prendere la pinza tonda come abbiamo fatto per fare i ganchini prima ho fatto la solina portandola fino contro il filo scusate mi sono persa la fotocamera quindi sono andata fuori campo totalmente poi ho preso sempre la mia pinza cicciotta qui ho fatto il giro intorno alla parte più grande in questo modo o leggermente piegato qui ad angolo così la parte che poi sarà quella che si va a inserire nell'orecchio taglio gli eccessi cercando di andare un pochettino di sbiego e poi la parte qui se rimane che raschia un pochettino con una limetta io adesso qui sotto mano o solo quella delle unghie perché mi sono dimenticata di tirarle fuori fate in modo che questa parte non rimanga che gratta e anche il nostro ganchino per l'orecchino è praticamente fatto non ci resta altro che aprire il gancio andare inserire il nostro orecchino e richiudere il gancetto il nostro orecchino è pronto spero che questo progettino semplice semplice vi sia piaciuto nell'info box vi metterò i link per i materiali e per la bb craft e vi ricordo che la bb craft con ordini superiori a 25 dollari offre la spedizione gratuita in tutto il mondo vi ricordo che ci sono sempre tantissimi prodotti nella categoria saldi che possono tornare utili e comunque avete una vastissima gamma di scelta per qualsiasi sia il vostro hobby e la vostra tecnica creativa mi raccomando se vi è piaciuto il video un pollice in su iscrivetevi e al prossimo tutorial buona serata e grazie a tutte ciao ciao